Mamma, oggi farai anche tu da ospite, giocherai anche tu la cena e non sarai la chef in questione. Che bello, mi piace questo esperimento, molto. A parte invertite, come ha detto mamma, papà cucina e mamma stappa il vino. Non sono molto convinta di questa inversione, avrei fatto più il contrario, però vabbè. Cin cin! Ultima per vita. Alla presentazione io direi un bel dieci. Sì, confermo. Bravo papà. Ora la prova più tosta da superare. A fare la prova assaggia. La presentazione è molto invitante. È molto cremoso. Buonissimo direi. Io sto un po' arrancando quel ritmo, mamma, intanto serve il secondo. No, va bene. Passato l'infiantamento a te, mamma? Sì. Prometterlo troppo bene, non posso dire di no a queste, anche se sono pieni. Poi c'è lo spazio per lei, cioè me la sto sognando da non so quanti giorni. Mamma, quanto è che ti chiedo di farmi la verza bruciacchiata? C'è un po' il tempo. Vabbè, quant'è che te l'ha chiesto? È vero, l'ha fatta lui. Mi chiesto a mamma, l'ho fatta io. Non importa poi quanto sei pieno, ricordati che tua nonna ti diceva sempre, mangia un po' di insalata, nip e sciacqua la bocca. E per concludere in bellezza, mi metto a casa nostra il dolce, non manca mai. Che ti avevo detto, mamma, quando stavo a Dubai? Quando torno voglio mangiare sano. Vabbè, mangiato tanto lo sano. Eh, grazie. Sanissimo. Insomma, siamo là. C'è solo un modo per conquistarmi definitivamente a me, il gelato. Con questo abbiamo detto. Oh, lo riesco. Buonissimo. E la cosa che mi dà più soddisfazione è mangiarlo direttamente dalla pasta. La famiglia più bella d'Italia. Hanno scritto. Sei una gelataglia? Non è come me che mi vesto di bianco e dico che sei una gelataglia. Tu lo fai davvero?